Ciao a tutti gli amici del Tastello, siamo a Dacate con Ivan Coniglio e Giuliano Mancuso, rispettivamente secondo e primo assoluto, oggi battaglia a denti stretti, hanno dato spettacolo, chi è venuto a vedersi la gara sicuramente non avrà niente da recriminare, ha passato un 1 maggio spettacolare e noi vi ringraziamo. Giuliano, la gara ti è piaciuta, speciali molto lunghe, sembrava quasi di non essere un regionale? Sicuramente è stata una bella gara, i ragazzi del Modo Club hanno fatto un ottimo lavoro, oltre alla durata delle prove speciali fu un perno abbastanza selettivo, ha fatto sì che si vedeva la differenza tra i vari piloti, sono molto contento della gara che ho condotto, faccio complimenti a Ivan, siamo scannati, fra virgolette, tutta la giornata, bellissimo. Ivan, tu? Anche per me l'organizzazione ha fatto per me un ottimo lavoro, faccio i miei complimenti a Giuliano che è riuscito a spuntarla, ci ho provato fino alla fine, diciamo che tutti e due siamo scornati senza nessun ritengo, senza Dio. E sono due settimane che andate avanti così, anche all'italiano più o meno stessa storia, oggi solo 4 secondi a dividervi, con dei tempi infettucciato di Ivan veramente grandiosi. Parliamo del campionato, il campionato con quest'altra vittoria di Giuliano si spostano le previsioni su di lui, però tu a quanto pare non vuoi proprio mollare? No, sicuramente non mollo e non gli darò vita facile a nessun motivo al mondo, anche perché penso che questo sia il bello del capo, sicuramente il gap si è allungato, però crederci fino alla fine e provarci fino in fondo, poi quello che avviene ci prendiamo, l'importante è divertirsi e stare tutti insieme. Giuliano, tu come la vedi? Sicuramente vincere anche oggi mi ha dato altri tre punti che possono essere importanti per le ultime due gare, vediamo fare bene a Caltanissetta, poi vediamo, bisogna impostare gara per gara. Ora io vi faccio una domanda un po' spicolosa, oggi ci sono stati dei problemi con i tempi, fino all'ultimo non si avrebbe ben capito chi avesse vinto per appunto dei problemi con il crono. Non sarebbe bene passare finalmente e definitivamente ai transponder? Sicuramente sì, il transponder è più preciso, fai meno fatica a prendere il tempo di entrata e il tempo di uscita, quindi sicuramente il tempo è più preciso e sicuramente è immediato, quindi sarebbe un'ottima cosa poter finalmente dire sì ai transponder, se possiamo dirlo. No, non so pienamente come Ivan, non è lice tutta la giornata, appunto il primo italiano si utilizzano, quindi non vedo perché noi non lo dobbiamo fare. Dato che abbiamo un livello abbastanza alto ed è antipatico andare fino all'ultimo. Sarebbe più difficile decidere dei campionati per magari degli errori banali che si possono evitare, quindi anche io sono d'accordo tra spazio. Ragazzi io volevo appunto salutare Domenico Ricchiari e poi vi lascio andare, fate voi. Oh Ricchiaro, che cazzo fa? Ci lasci da soli. Abbiamo corso, abbiamo corso senza dita. Partiamo noi tre insieme e tu ci lasci da soli. Noi impegniamo e tu a casa l'è. Hai fatto i tuoi? Vieni e impegniamo, stop. Dai, muoviti Domi. Ciao Domi, ciao amici del tassello. Ciao Domi, ciao a tutti.